Che cosa vuol dire? Come fare lo screen? Parti da lì Dovrebbe venire un quadrato per quello che vuoi registrare Tutto, via, dai Avvia registrazione Ok, apri Illustrator Apri Illustrator E cosa vuoi fare? Aspetta, prima devo trovare Devo fare Batman Ciao ragazzi, innanzitutto Ciao, lei Giulia? Ma lo sanno Lo sanno, perché lei è Vips Aspetta, non me lo fa trascinare Come si trascinano le cose Vecchia Vecchia, non aprirla Cliccaci sull'altra Ognare, ascolta Greta Hai due grafiche, stai calma Stai calma Aspetta, che se faccio Verdani Prova Scusami, mica con due dita che si seleziona Cosa imposti? Me l'hai impostata come cosa? L'immagine della scrivania, però non è andata Eh, allora... Adesso mi è andata, grazie Vabbè, intanto stai registrando lo schermo, quindi si vede C'ho Batman come foto di schermo Ok Ok Adesso fai il tracciato, ti avevo insegnato No, livello nuovo Brava Brava Giulia, taci Bloccati quello lì Quello sotto blocca Quello sotto lo blocco Sì, vai col pennino Allora, no Spieghiamo Deve essere fatto tutto sotto forme geometriche Ah Eh Quindi triangolino, triangolino quadrato Faccio tutti i triangoli Io mi sa che faccio tutti i triangoli Intanto però fatti le forme più grandi sotto E Greta, tu sai che lei è ogni forma che fa le colora Non le colora dopo Quando serve Le colora dopo Lei non capisce Scusate, allora non coloro Ok Adesso prendi la forma che vuoi Quello è il pennino Eh, non c'è la forma a triangolo Devo per forza fare il pennino Che cazzo Che quello prendi un trapezio Dove lo vedi? Vecchia Faccio il triangolo così, vecchia Ah Vabbè, puoi farti il trapezio Eh, è sempre il trapezio Ah, no, è un trapezio Adesso clicca fuori E poi riprendi il pennino Ok Adesso riprendi Adesso riprendi Ma se faccio così E poi me lo giro Vedi, lei vuole fare È già la top Riflessione Ad anche top Ad vai Ad anche top Fai ardanno Oddio Com'è che si sposta? Ma allontanati che poi non mi vedono le persone Scusami Giulia Poi non ti vedono i tuoi fan Vanno con alto che ti ho detto Te lo metto nella stessa Parte che ti ho detto Metti un altro colore invece quel nero In modo Non si vede a casa Eh, perché vecchia è trasparente Mettilo giallo O rosso Verde fluo Che bello Ok, anche l'altro Perché non è chiuso e c'è solo un lato Perché non l'hai chiuso Perché non l'hai selezionato Allora L'ho chiuso, guarda Di qua Cancella questo di qua E ti copi di nuovo questo Magari ma è quello che ho fatto prima? Comunque spiega cosa stiamo facendo ai tuoi fan Schifo Grazie Tra l'altro notare la capigliatura Minchia Vedi? Basta mi si è già impallato ragazzi Ed è anche un Mac di figa Ed è anche il Mac nuovo Ecco, bravo Allora Adesso faccio così Ctrl C Shift Ctrl Shift V Giusto? No, quanto non è chiuso Sì, guarda Ma Shift non c'entrava niente Ah beh, intanto l'ho rincollato nella stessa position Eh, adesso fai riflessione No, in realtà non è la stessa position Eh, con Shift dovevi trascinarlo dopo Eh vabbè, se lo trascino adesso Ah no Se lo trascino dopo Capisci Greta, il dilemma Capisci quanto è difficile Ecco, adesso però lo è Adesso sono uguali Quindi oggetto Trasforma La riflessione Ok Con Shift Brava, grazie Giulia Ok E questo è il naso Che schifo figa Fai schifo tu Ma scusami Perché tu come lo fai? Pennino Pennino Eh, l'ho fatto anch'io col pennino No, proprio tutto tracciato Poteva essere direttamente Eh, ma non posso perché devo fare tutte le forme geometriche Adesso faccio qua Ho un triangolo Perché? Anche lì Ma tu devi fare la stessa forma geometrica? Non sempre Ah Non importa Basta che siano solo forme geometriche Ma perché manca qua È l'ombra Non farlo il triangolo dell'ombra Fatti intanto questi Tipo Gli occhi e tutto Ma secondo me invece mi conviene fare triangolo Triangolo Tondo Tondo Occhietto Fallo perché voglio vedere come esce Ma ragazzi ma faccio così schifo? No, no Che bastarde Non mandiamo la Musconi Tanto vi sto sgamando che mi state sfottendo Lasciala fare Greta Lasciala fare C V Oggetto Riflessione Però tu dovresti spiegare cosa sto facendo Giulia Schifo stai facendo Sì ho capito E anche qua non c'è l'altro lato Perché non l'hai chiuso Chi se ne fotte Tanto è chiuso Eh ma dopo se colori No se colori non si colora E quindi adesso lo devo chiudere Sì dovevi spostarlo Chiuderlo E avvicinarlo Chiuso Buono E anche l'altro è da chiudere L'altro è già chiuso Rimbambite Ah Rimbambite Rimbambite Cosa volete insegnare a me A usare l'illustrator Lo uso solo da due giorni A me guarda D'altronde Non è più strato Non è più strato Guarda le punte qua sotto Non sono uguale Aspetta Fermo Fermo Insomma Le freccine apposta Adesso faccio così Freccina Guarda Ancora A me era giusto prima Ok scusa No Adesso è sbagliato E perché se uno fa così E Ecco Eh Insomma Anche secondo me Non è dritto Non è dritto Non è dritto Metti i righelli A parte che c'è ancora Però vabbè dai Il profe non lo vedrà Sì se fa zoom lo vede Dai Lessa muoviti Ma tu vuoi far tutto il disegno Tutto il video Samuele ha studiato Non lo so Tu mi dovresti Tu dovresti spiegare Che stiamo facendo questo Perché è un mio compito Dell'università Che l'hai spiegato L'hai spiegato Sotto forme geometrie Ok quindi adesso facciamo gli occhi Faccio la telecronaca Quindi facciamo Bravissima Stiamo facendo Un E lisse E lisse Che non è così da fare Perché è più grande Cos'è che non va La mia Oddio cosa ho fatto È un colpo al cuore Questa paranoia Guarda Guarda Adesso no Perché devi fare Adesso cancelli Adesso cancelli Perché cosa ho fatto Cosa ho fatto Lo selezioni Lo trascini Ah me l'aveva insegnato Alt e shift Alt e shift E trascina No 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 Prima devi selezionarlo Trascinalo Prima lo trascino Sì Adesso schiaccia Shift e alt Tieni lì premuti Ok Però molla prima il mouse E poi taglia Esatto Qua dai Ok Me la sento che qua Non è centrato È un po' svergolo Così è perfetto Ah beh Se lo dici tu Ma non è colpa mia Se lui è strabico Che cazzo è Adesso Vai con la bocca Con la bocca Cosa vuoi fare Con la bocca Faccio triangolo Eh certo Ti angoli sempre Eh no Eh sì Boh nell'altro Avevo fatto due Due fondi Vuoi vedere Come ho fatto Nell'altro la bocca Vuoi vedere Adesso vi faccio vedere Come ho fatto Nell'altro la bocca Siete felici Zoom per favore Guarda come ho fatto La bocca No ragazzi La bocca Cerchio 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 E tu devi laurearti In queste cose Sì Questo qua sembra Un pisallo lungo Sai che l'ho pensata Anch'io Dai Con un po' del palo Schiacciato Diamo avanti Diamo avanti Fa schifo Sì Bene Io la porto al prof E non me ne frega un cazzo Eh adesso cosa devo fare La bocca Non c'è L'estrumento trapezio E lo fai col pennino Strumento poligono Ah no è Fai pennino Alleati col pennino Ci coglioni Stipennini di merda Mi stanno sul cazzo Allora triangolo Giù? No No Perché è un triangolo Non è che fa Vuole simmetrico Credo proprio Eh vabbè tu fallo Cazzo te ne Simmetrico no No Continua Continua Cioè il mio prof Lo vuole simmetrico Lei non gliela fa Il contatto Allora sposta questo Eh ma se lo fai Ma si è fatto così Anche per il naso Guarda Greta mi dà ragione Vedi che però negli occhi Questo è più su Quindi non Ma ma sono uguali Sono simmetrici Non vedi che la pupilla Ce l'ha qua a metà e qua in Beh ma se lui è strabico Non è mica colpa mia No in teoria dovresti aumentare La luminosità Così si vede bene Eh ma abbiamo poca batteria Questa è la luminosità Guarda 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 dove finisce Ah è uguale a questo Sono i genrici Che devi tirare su Guarda dove finisce Tu tira sul cerchio Eh ma vuol dire che poi Non sono più simmetrici Il prof guarda la simmetria No Tegnali se La lura Eh lui Tegnali se Ma sono io che Che io prendo l'immagine Da mettere sotto Ma in realtà Non dovrei neanche prenderla Dovrei disegnarlo così A mano libera Non è proprio Ma infatti No Lo trascino E dopo Premo Alt Shift Sì Vabbè che brava Figa Giulia Ho imparato dalla migliore E che cazzo Ma sì che non è Dovessi già saperlo Cosa c'è No 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 a me A me non hanno insegnato niente Non mi hanno neanche insegnato riflessione Me l'ha insegnato Tutto dove l'ho Belle Beh secondo me Beh ci stanno dai Ma che cosa fai Ma che cosa fai Ma che sono storte Ci sono le farcine Ma è storta la bocca No È giusta È dritta E qua sotto faccio un cerchio Perché Che palle Che cazzo faccio Trapezio Trapezio Vecchio Uno Due Tre Quattro Lei vuole il trapezio Che sia accontentata la donna Uno No È troppo giù È troppo su Qua dovevi arrivare Z Qua Vai al mento Qua Testa di Giù Qua Qua Adesso vai qua Testa di un gran cazzo Più avanti Qua Qua Su Che donna figlio Guarda come si incazza Adesso Lì E vai qua E lo chiudi Ah devo anche chiuderlo Se vuoi colorarlo Eh ma c'è lo spazio in mezzo Eh la bocca la prendiamo tutti eh Ah Sto spompinando insomma E si sembra quello Muoviti Davanti Cosa devo fare Qua faccio un cerchio Per il metro Ma beh Perché devi fare tutte le forme Fatti intanto Un semicerchio No Semi ellisse Oppure due ellissi E come cazzo si fa una semi ellisse Fai una semi ellisse Come se sapessi farla Capito Perché chi non sa fare una semi ellisse Tu sai fare una semi ellisse Vecchio Vieni qua Fai la semi ellisse Eh vabbè grazie Anch'io so cos'è Fammela dai Dai Fai Ma semi a bu Hai messo mia bu Fai Un ellisse qua E un ellisse qua Così mi viene il mento a culetto Ma Cioè A te ti sembra anatomicamente Corretto Greta A fare una roba così Cioè mi caccia sul pad Vuoi vedere una cosa No Più grande Che gli arriva finalmente E poi lo porti sotto Che sai come si fa Ma l'hai fatto tu Come la No Yuri Come l'abbiamo ridotta La posso farla vedere Si vede Non lo so Se si vede bene È così come gli youtuber Sì ma tanto si vede lo stesso Aspetta Ah sì guarda Ma che bella Vai Guarda Il mio compagno di classe Come l'abbia ridotta E adesso Guarda il Più grande Ma non si fa così Eh abbiamo preso Il culo di un bambino E poi l'abbiamo Il sistemato Guarda che se mi sfotti Poi quando lo monto Lo rivedo Quindi non so se ti conviene Però mettiamo altri sottotitoli Quando parliamo in dialetto Che magari Gli internazionali Non capiscono Si minchia pure sottotitoli Cioè io sto anche studiando Cioè avrei i miei cazzi Vabbè dai Gli internazionali poi Gli fanno internazionali Poi non capiscono Certo Giustamente Internazionali Perché avevamo fatto Un ellisse Perché ne fai uno qua E uno qua Ma ti sembra Ma ti sembra logico Fare sti cerchi di merda Più tanto se io avrei fatto Un triangolo Anch'io avrei fatto Un triangolo Un trapezio Un bel trapezietto No fai uno Guardami Uno Due Tre Quattro Trapezio E poi te lo copi di là Allora fallo Allora fallo di qua E vai a metà Esatto Tira su dalla bocca E poi Mamma mia Te l'ho detto io No Ho detto io Scusate Ho appena detto io Del trapezio Uno due tre quattro No Tu avevi detto qua Liggio No No Non lo avete capito Il detto qua Sese Sese Che fare Ho detto Uno due tre Quattro Così avevo fatto Uno Giù Due No Qua No secondo me Combiene così Guarda Tre Guarda Ti trova Il ti trova Il centro Allora fallo così Eh no Fai un rettangolo in mezzo Mi viene fino a qui Fai un rettangolo in mezzo Beh che posso farlo così Chi lo sa Cazzo meno Non è che deve essere uguale Alla foto di Batman E però dopo Eh chiudilo Eh cazzo Tene se ti viene il buco Dai Va bene La maschera la faccio iniziare da lì Tutto storto Tanto Cazzo meno E minchia frate Come Cosa stai per fare Stai per fare Come Stavo per No Stavo per Trascinare E fare Alta Adel che Adel che Oggetto Trasforma Trasforma 5% No vabbè Ho mezz'ora di batteria Vabbè però Togli Cioè togli l'occhietto qua Così vedono solo il disegno No L'occhietto Bello Ricorda un po' Batman Ricorda Batman Cioè voi non capireste Che non gli fai le Le cornette Ragazzi Cioè Parla al pubblico Voi non capireste che è Batman Carino Ecco copritelo Che altrimenti Questo qua mi fa causa Magari Non c'è neanche i soldi Per pagarmi Eh Dai Ci sta Sembra Batman No Vabbè se ci metti Gli orecchiette È già risolto È Batman Ok Adesso c'hai 5 Adesso ho i 5 Quindi saluto i tuoi Saluta I miei Ciao I tuoi amici Ciao